Omaggio ad Angelo Campo, l'uomo, l'intellettuale e l'artista, è il titolo del volume scritto di politica, cultura e arte, presentato in conferenza martedì pomeriggio all'auditorium del Centro Studi a Ragusa, volume edito dal Centro Studi Feliciano Rossitto e dal Centro Servizi Culturali Emanuele Schembari. Al centro dell'opera la personalità versatile di Angelo Campo, uno dei maggiori intellettuali della città di Ragusa, scomparso nel dicembre del 2007. Una figura che è diventata appunto di riferimento per la città, in quanto ha contribuito con le proprie capacità alla promozione della cultura, dell'arte e della gastronomia. Un uomo coraggioso, aperto al dialogo e consapevole che la ricchezza di una comunità passa attraverso il confronto costante e la valorizzazione delle proprie peculiarità. Alla conferenza sono intervenuti Giorgio Chesseri, Presidente del Centro Studi, Pasquale Spadola, Presidente del Centro Servizi Culturali, Salvatore Burrafato, Presidente Unitre. A delineare alcuni tratti del carattere di Angelo Campo ha anche il sindaco Peppe Cassì, molto legato al ricordo di questa figura. Io chiaramente sono molto interessato da questo evento, essendo Angelo Campo mio suocero. Io lo conobbi già negli anni Ottanta, quindi alcuni decenni fa, subito manifestato nei miei confronti un grande affetto, una grande generosità. Abbiamo avuto uno splendido rapporto, è venuto a mancare troppo presto. È un uomo di poliedrico, di mille contraddizioni, di grande cultura, una miniera costante e continua. Presenti anche i curatori del libro Giorgio Chipinti, Angelo Battaglia e Mariella Gbastella. Angelo Campo è stato un uomo del rinascimento, rinato nel 2005. Per lui la cultura era un fatto universale, a 360 gradi. Era interessato a tutto, dalla pittura, alla musica, alla scrittura, a scrittosaggi, pisse teatrali. Si spendeva in ogni campo dell'arte, della scienza e degli studi in generale. Inoltre è stata una persona che ha creato tante scuole di giovani pittori, che poi Mariella Gbastella ha continuato e, quando lui ci ha lasciato, ha creato la promotrice delle arti intestata proprio ad Angelo Campo. Parla di tutto quello che era Angelo, che era, come abbiamo detto prima, interessato a tutto. Lui era un entusiasmo vivente, proprio si entusiasmava in qualsiasi cosa e in qualsiasi campo. Io parlo per me perché è stato il mio maestro come pittura, come arte. E quindi per me è stato il massimo. E allora lì nel libro, spero che chi lo legge possa veramente vivere quello che era il cuore di Angelo. Grazie a tutti